Le grandi squadre sono tali perché possono giocare bene e possono giocare male, ma le grandi squadre sono quelle che vincono anche quando giocano male perché c'è sempre un campione che risolve il problema. E quando non c'è il campione cosa fai? E non vinci le partite. Ma dove vieni? Ma cosa c'entra? No, ti ho detto, nelle ultime sette partite più due vicenti, il signore Ibrahimo ha fatto un grosso rigore, un grosso rigore a Napoli. Cosa stai a dire se non c'è la squadra nel calcio moderno? Non vai da nessuna parte, amico mio. Ti ripeto ancora una volta che le grandi squadre si chiamano tali perché possono giocare bene e possono giocare male. Ma vince la squadra! Vabbè, intanto in una grande squadra non c'è un solo campione. Intanto in una grande squadra non c'è un solo campione. Ma non lo faccio finire! Vanno finire! Voi che concluda in un'altra maniera, ma che ne sai te delle squadre di calcio? Ascolta, se tu sei diventato direttore generale della Juventus e sei partito come capo stazione, io arrivo a essere direttore generale del Real Madrid e del Barcellona. Ricordatelo, c'è il particolo a fare il capo stazione, ma che stai a dire? Non hai mai giocato a pallone? Da capo stazione non c'è niente a tutti. Giù, giù, stiamo in tre e poi non vieni anche a capo stazione. Non capisci niente, non capisci niente, non capisci niente, sarai te stupido. Attenzione! No, 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 attenzione. Attenzione alle parole. Attenzione alle parole. Attenzione alle parole. Mi viste non capisco niente che non te l'ho detto. Perché stupido, stupido io non te l'ho detto. Ma te non capisci niente? E se non stai stare a gioco non hai capito niente. Se non stai stare a gioco, io stupido non te l'ho detto. Ricordatelo bene. Ma hai detto che non capisco niente? E allora? Perché quante volte me l'hai detto tu che non capisco niente? Ma ti cazzo, ti cazzo il conto? No, stupido, ricordatelo bene e non ti permettere mai più di dire. Perché io ho sempre avuto un sacro rispetto. Se mai ho fatto delle battute. Ma stupido non me lo dissi. Dallo scherzo, come siete arrivati? Ma come siete arrivati qui dallo scherzo? Perché signori, sapete che cosa? È stato bello. È stato bello. È stato veramente bello. Ma che c'è? Io ho un sacro rispetto per persone. E allora stai con noi. E allora stai con noi. Ma nessuno lo mette in dubbio. Nessuno lo mette in dubbio. Ma stai qui. Ma nessuno ha preso nessuno. Ah no. Dai, si. Ma si stava giocando.